Zitti tutti, sta per iniziare il GCN Italia Show! Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi puntata numero 41! Siamo al Living Place Hotel di Bologna, siamo venuti a trovare Letizia Paternoster il giorno prima del Giro dell'Emilia, è alloggiata qui anche la Trex e Graffredo uomini e stiamo aspettando Letizia che dovrebbe arrivare tra poco. Non ci credo. Brambilla! Sono io! L'omonimo di Giorgione Brambilla! Il fratello! Ma perché il fratello? Lo dice ProCyclingStat. Ah ProCyclingStat, il miglior sito di statistica del ciclismo, scrive che siete fratelli. Fratelli! Ma anche per la storia vi scambia ogni tanto? No, quello no! Non ti chiedo, ma sei fratello di Giorgio Brambilla! Penso di essere un paio di chili in meno, un paio di metri in meno. Ma secondo me adesso anche tre chili, dopo il viaggio di nostro di Giorgione sarà anche tre chili in meno, tre quattro. Ascolta Brambillino, vogliamo iniziare lo show insieme? Andiamo! Dai, iniziamo! Siamo mica qua a pettinare le bambole! Lead Story! Come nasce l'amore per il ciclismo? Abbiamo deciso di fare questa Lead Story perché in tanti hanno chiesto a Letizia da cosa è nato l'amore appunto per il ciclismo, da cosa è nata questa passione immensa per quello che è la bici. Tu Gianluca, perché ti sei innamorato del ciclismo? Io mi sono innamorato della bici guardando il mitico pirata in tv, ero piccolino e dopo la scuola a maggio guardavo il pirata a sfrecciare in salita con la maglia rosa e mi sono detto... Fulgorato si è rimasto! Sì, ho voluto per emulazione! Sì, invece io ho iniziato nove anni perché avevo casa sempre piena di giovani ciclisti, mio babbo era un direttore sportivo e alla fine sono rimasto folgorato da tutta questa gente, questi ragazzi ancanti della mia età che erano appassionati, quindi ho detto ma perché non posso provare anch'io, visto che si divertono così tanto e voglio provare... tolgo le rotelle e via... tolgo le rotelle e via e inizio a correre, quindi ho cominciato con le gincane, poi con i circuiti, poi un giorno andremo a fare anche una lead story sulle cose che ti fanno disinnamorare del ciclismo e lì ce ne sono anche lì, però non è il caso. Adesso andiamo a sentire invece cosa risponde Letizia su questo argomento. Sono curioso. Letizia risponde, ecco finalmente siamo con la nostra Letizia che ha sostituito Brambillino, il Brambillone in miniatura, allora abbiamo parlato di come ci si innamorano del ciclismo e abbiamo preso una domanda che hanno fatto a te e ci abbiamo fatto una lead story, diciamo, Brambilla ha detto che sei innamorato grazie alle geste di Marco Pantani, io mi sono innamorato del ciclismo perché avevo sempre la casa piena di ciclisti, tu invece... Perché non mi piaceva camminare e quindi fin da piccolissima ho sempre cercato, ho ricercato una bicicletta, ho sempre ricercato un treciclo e da là ho chiesto una bicicletta ai miei genitori che mi hanno portato di conseguenza da Maurizio Fondres che era un amico di papà e la ho visto la mia prima bici e continuavo a chiedere per piacere posso andare nella squadretta di Maurizio Fondres che stava vicino a casa. Giovanissi a che età hai iniziato? Esatto, sei anni. A sei anni? Sì, papà e mamma volevano che facessi danza però io volevo andare in bicicletta e dal primo giorno che sono salita poi... E di lì è partita questa passione smisolata per la bici che ti ha portato fin qua. Allora iniziamo con le altre domande, allora Jack Colle Channel dice da piccola esordiente allieva vincevi? Ma diciamo che mi è sempre riuscita abbastanza bene il ciclismo, quindi sì. E tu i corsetti le vincevi già da giovanissima praticamente. Fabio da Ross, come vedi il fatto che si cominciano a vedere delle corse miste tra maschi e femmine, esempio cronostaffetta mista che abbiamo visto al mondiale? Ma secondo me attira molta più partecipazione, molta più visione dal pubblico e secondo me è una cosa figa perché... Sì, ma è una cosa nuova. Secondo me diverte anche tanto questa cosa. Vedere gli uomini che corrono con le donne in una squadra nazionale è veramente una cosa che funziona. Molto meglio che la cronosquadra che c'era prima che era per team, che non aveva quella pill necessaria per sfondare. A me diverte un sacco, personalmente è una disciplina che mi diverte. John ti chiede qual è secondo te la vittoria più bella che ha ottenuto tra strada e pista? Quale corsa sogni di vincere in futuro? Ma allora sicuramente i mondiali che ho vinto su pista da juniores, un mondiale quando avevo fatto il record del mondo nei seguimenti individuali, mi aveva emozionata tantissimo. Invece su strada la prima corsa che ho vinto con Trek. In Australia, tu da un under? Esatto. E quello l'è stato bello. Emozionante. Qui uno ti chiede, si chiama Alessandro Tesoriati, qual è stato il momento più bello della tua carriera? Vabbè, l'abbiamo parlato. E quello più brutto se c'è stato? Ma il momento più bello della mia carriera, penso quest'anno al mondiale su pista, dove ho ottenuto l'argento nell'omnium, mi ha reso davvero felice, mi ha aiutato a credere ancora di più nei miei sogni. E il momento più brutto a maggio ho avuto, non sono stata bene, ho avuto un'infezione renale. E là, proprio in quel periodo, ero andata abbastanza giù di morale, sì. Però mi ha aiutato tanto e mi ha insegnato tanto. Magari ti è servito per essere più forte. Esatto. Paolo Bragagnini, che tipologia di ciclista ti rappresenta meglio? Ad esempio, velocista, scalatrice, passista veloce, cronoman, non so, come ti definisci? Hai mai pensato di fare mountain bike o ciclocross? Mountain bike da piccolina la facevo, infatti da esordiente non sapevo se continuare con la mountain bike o con il ciclismo su strada e da piccolino facevo più mountain bike quasi che ciclismo su strada. Invece come caratteristiche sei una sprinter, una velocista? Sì, sì, penso di andare molto di più come sprinter. Poi magari gli strappi, le salite corte, riesci a tenerle anche bene comunque. Sì, sono abbastanza completa, riesco a tenere abbastanza sulle salite corte. Ecco là, platano, platano, avevo detto di non cadere nel trash, qui siamo ancora in limiti. Alan, insomma. L'ho filtrata il più possibile, però troppa gente è caduta nel gossip. Dai, ascoltiamo. Letizia, sei fidanzata? No. No. Ho letto che Renko e Benepoel ti fa un po' di corte. No, non è vero. Pieno di gente che scrive di Renko. Dai Alan, aiutami. È roba che si è inventata da gente, così. Non è vero niente. Gli hanno visti, mi raccontavi, mangiavi con la quick step, c'era anche lui dall'altra parte del tavolo. Qualcuno ha visto, ah, stanno insieme. Poi gli ha commentato. Non è... È venuto fuori una invenzione della gente, che vabbè. Però va bene. Non c'è niente. Diverta anche quello, dai. Vabbè, sì, fa parte del gossip del ciclismo. Cioè, vabbè. Mauro S., dato il recente exploit della Nazionale Femminile di Calcio, con un conseguente aumento di interesse da parte del pubblico, cosa pensi che manchi al ciclismo femminile in primis per raggiungere certi livelli di coinvolgimento del pubblico sempre maggiore? Cioè, in bocca al lupo. Eh, molto... Che ci vorrebbe per attirare più gente nel ciclismo femminile? Beh, sta crescendo molto il pubblico anche nel ciclismo femminile. E... ci vuol tempo, secondo me, perché comunque io penso che tutte le ragazze della Nazionale Italiana stanno da sempre facendo grandissimi risultati, quindi penso non sia il risultato che manca per attirare il pubblico. Il grosso risultato. Esatto. Ci vorranno più media su di noi, quello sicuramente. Ma c'è qualcosa, magari già con la staffetta mista, già crea un po' interesse. Già con le corse che, il Giro delle Fiandre... Stanno lavorando appunto per aumentare il pubblico e io penso che fra un po' di anni... Ci sarà più interesse. Esatto, arriveremo a un buon livello. Perché già con le corse stiamo facendo tanto, tipo domani avete il Giro delle Miglia, arrivate prima dei maschi, i vegalli uguali, poi le grandi classiche, quindi c'è già qualcosa che si muove. Sì, stiamo lavorando. Allora, Gabriele Feole. Ciao Anna GCN, GCN Italia, ci siamo. Complimenti per il canale, i contenuti sempre ottimi di livello. Avrei una domanda da fare per Letizia Paternoster. Letizia, cosa hai provato quando sei stata convocata in Nazionale Elite per il Mondiale di quest'anno? È stata un'emozione grandissima, ero davvero felicissima perché ricordo quando ero piccolina guardavo i mondiali delle ragazze in tv. Mi alzavo, ricordo un giorno che mi ero alzata in Australia davvero presto a casa, erano tipo le 5 di mattina per guardare le ragazze. E essere là presente è stata un'emozione grandissima. Lorenzo Cardani, cosa ne pensi della gara uomini Elite su strada e della gara delle donne? Bene, qui chiedono un parere tecnico, sai che è molto discursa è stata questa mondiale. Sì, mi dispiace molto per Matteo, però sono d'altra parte anche contenta per chi ha vinto, insomma il mio compagno di squadra. È vero, è vero, è vero. Una che attacca a 106 chilometri, non arrivo da sola, cosa vuoi dirgli? Vuol dire dargli la mano. Era impossibile contrastarla, molto difficile insomma. Comunque andiamo avanti, andiamo avanti che qua è pieno di domande ancora. M Berge 94, 1.194. Allora, 1, l'hashtag dovrebbe essere Letizia risponde, perché sono questa... Grazie Alan! C'ho questa zetta maledetta, mi prendono sempre in giro. La zetta? Letizia, ma non dico Letizia. 2, dato che il Giorgione non se la passa male, lasciamolo tornare dal Sudafrica come Francesco Caghi e nel frattempo teniamo Letti perché questo Francesco Caghi ha fatto una puntata con noi, l'abbiamo intervistato, è partito dal Sudafrica, è venuto in Italia, in bici! Ha fatto tutti, 30.000 chilometri, è arrivato! San e Salve è sopravvissuto, dovrebbe fare anche Giorgio perché ha bisogno di mettersi in forma, non sarebbe una cattiva idea. Allora vengo a sottotitirlo. Va bene, dai, se mi volete. Ma certo che ti vogliamo! Allora, è già fatta! Ti vogliono! 3, Letizia, la domanda, finalmente arriva la domanda. La domanda è, ma quanto lo aspetti Alan quando pedalate assieme? In bocca al loro per la tua carriera. Aspetta, ci siamo usciti 3-4 volte. Allora, una volta ti ho staccato, non puoi dire in salita. Allora, lì facciamo un lavoro specifico, 15 secondi in salita. Lui ha provato a starmi dietro. Quasi da fermo a tutta. E lei così leggerina, bella esplosiva, è andata via. Mi staccavo, lo ammetto. Però poi per farsi perdonare dovevo fare una volata e mi ha fatto un gran lead out. Mi ha fatto un lead out man, gli ho lanciato una volata a 70 all'ora, non è vero. 80, dai, esageriamo. Però sono un buon lead out man. Grandissimo lead out. Quando hai bisogno di allenarti per le volate, posso aiutarti. Allora, Donato Caffarelli, Letizia risponde 1. Se qui fanno più domande, vabbè, il ciclista o la ciclista che l'ha fatta innamorare di questo sport? Se hai una... Come va detto, Moritz Fondest, vedevo le sue foto e di quando vinceva dicevo le voce. Ciclismo ma anche social. Hai già pensato ad un futuro dopo la carriera agonistica come conduttrice del GCN Italia Show? Con Alana e Giorgione, ovviamente. Quasi inarrivabile sta cosa, però. Fra magari in futuro, chi lo sa, sarebbero diventati globali, enormi. Hai ragione. Farai la terza presentatrice, chi lo sa. Chi lo sa, mai dire mai. In bocca al lupo per Tokyo 2020, Letizia. Speriamo di arrivarsi, Dani. Crepi il lupo. Daniele Centenaro, quanto si sente australiana? Tu hai origini australiane. Esatto, sì, mio papà è australiano, io sono italiana-australiana, però il mio cuore è italiano. Quindi non ti senti italiana al 100%? Mi sento italiana. Con delle radici, ovviamente, australiane, però. Gin Tonic, bello questo nome, Gin Tonic. C'è? Non scherzo. Allora, lui non scherza. Gin Tonic, già che insomma si presenta, non è molto credibile. Non scherzo, sono serissimo. Quando hai il ciclo, come fai a gareggiare? Che domanda. Le donne in generale. Beh, vabbè, dai, siete uomini, quindi si può anche capire. Se non si scandalizza nessuno, comunque. Beh, ci sono gli assolventi appositi per le ragazze quando hanno il ciclo. Per lo sport, assolutamente, e menare. E via. Via. Turbo Star. Letizia risponde, raccontaci la tua storia da pro anche in quattro parole. La vuoi in quattro parole? Dille in quattro parole, la tua storia da pro. È stata una figata. Perfetto, bravissima. Abbiamo sintetizzato all'ennesima potenza. Lorenzo Cardani. Quante ore di trasferte avete in una stagione? Cioè, non ora, forse vorrà dire giorni. Cioè, non è che calcoli le ore. Quanti giorni totali fai via da casa? Sinceramente, sono sincera, non li ho mai contati. Però sono tanti, tanti. Forse sono... Fai prima a contare giorni che sono. Faccio prima a contare quelli che sono a casa. Sono tanti. Non le so, ad ora non le so. Dario Monaco. Ciao Leti, qual è la cosa più strana che ti è mai capitata di vedere in gruppo? Complimenti per gli ottimi risultati. Più strana che... Più bizzarra, più... Non so. Più shock. Più shock. Ma ricordo una ragazza che, poverina, ha avuto... Non si dice il nome? No, no, ha avuto problemi intestinali. In bicenteria? Esatto, sì. Ha fatto tipo un ton de moulin, però senza riuscire a smontare dalla bici. Bravissimo. E sì, non è stato bellissimo. È stata una situazione un po' particolare, insomma. Vabbè. Mattia Gallo, cosa ti dicono gli uomini quando li superi in allenamento in una salita? Provano a restarti dietro? Io ci provavo a fare i 15 secondi. Ma dipende. Sì, delle volte provano a starmi dietro. Delle volte mi fanno anche la mezza ruota. No, 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 che nervoso. Che nervoso, che nervoso. Abbiamo fatto una puntata, i compagni dell'allenamento da evitare, c'è anche quello che fa la mezza ruota. Bravissimo. Quello uguale. L'abbiamo descritto molto bene. Sì, mi ci sono riviste. Una roba fastidiosa, vero? Mamma mia. Pistapocci, nostro grande fan, Pistapocci, secondo te quanto hanno aiutato il movimento femminile, oggi sicuramente più seguito di 10-15 anni fa, i vari social network? Se abbiamo iniziato a conoscere direttamente voi atlete, è stato grazie a Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Non certo grazie ai giornali TV, che i giornali TV a volte non fanno tanto lavoro su questo. Sì, sicuramente i social network hanno aiutato tantissimo. e a tante ragazze come me, dove piace pubblicare comunque anche la propria vita e tenere aggiornate le persone che ci seguono, ha aiutato tanto a seguire il ciclismo femminile. Tu poi usi anche molto i social, le usi in maniera corretta. Sì, assolutamente, è una mia passione. Riesci a condividere con gli altri il tuo mondo. Fillo Lux, la vita da pro ti impone molte restrizioni a livello di materiali e abbigliamento anche fuori dalle gare? Che filosofia di allenamento sposi di più? Quantità o qualità? O magari entrambe? No, quali... Una volta allora, restrizioni a livello di materiali? Beh, noi abbiamo il nostro sponsor che ci crea le divise e devo dire che è davvero uno dei migliori nel mercato. Poi tu corri anche per le Fiamme Azzurre, cioè tu hai probabilmente due squadre, Fiamme Azzurre e anche Trex e Gaffredo. Sì, in Fiamme Azzurre abbiamo un altro tipo di abbigliamento e un altro tipo di marchio. Comunque, no, che filosofia dell'allenamento sposi di più? Quantità o qualità? Qualità, molto di più. Qualità, sempre solo qualità. Riccardo Dandolo, sarai presente alla festa dello sport di Trento? Devo ancora organizzarmi, quindi... Non è ufficiale. No, no, non voglio dirvi sì, magari non ce la faccio, però ci provo, ci provo. Ci proverà ad esserci. No, e poi la seconda domanda è... Quando ti alleni e qualche amatore ti riconosce, cosa succede? Fa qualche battuta, chiede un selfie? Sì, qualche foto ogni tanto, sì. Non sono troppi badenti. Vabbè, dai, comunque... No, 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 assolutamente no, mi piace anche scherzare. Sono tranquilli, esatto, sì. Anche poi magari per distrarsi un attimo durante un lungo allenamento ci può anche stare. Basta non essere troppo pesante, nel senso... No, troppo no. Roberto Rainero, quale tipo di alimentazione segui e quante importanza dai al tuo peso? Mai usato come scusa in caso di prova deludente? Io tante volte, ho mangiato male, sono gonfio, mi sono staccato per quello. Te invece come vivi questa cosa? Ma penso che l'alimentazione è molto importante per un atleta perché è la benzina che ci aiuta ad andare forti comunque. e quindi cerco di stare abbastanza dietro. Perché si può descrivere cosa mangi tutti i giorni. No, assolutamente, è troppo difficile. E poi ogni tanto qualche mio sfizio me lo tolgo. Sì, sì, dai. Quello è inevitabile. Esatto, normale. È bella la vita, no? Esatto, bisogna goderselo un po'. Allora, siamo agli sgozzoli, mi sa che abbiamo finito. Grandiosi. Ti abbiamo rotto pochissimo tempo. Allora, Gabriele Uberto. Durante le tue trasferte in giro per il mondo, c'è stato un posto che ti ha fatto dire o pensare mi sento come a casa? Ciao Leti, in bocca al lupo per i tuoi progetti. Come a casa? A casa no, amo il Trentino. Un posto che dice proprio, oh che bello, cioè quasi quasi. In Australia, in Australia mi è piaciuto da Dio, è stato proprio bellissimo. Parliamo del tour Down Under? Sì, al tour Down Under, abbiamo fatto una trasferta, siamo arrivati là un po' prima, chiaramente, e là mi è piaciuto tantissimo. È un'altra roba. Assolutamente, sì. Però in Trentino si sta meglio. Sì, Riva del Garda. Riva del Garda, Revo. Riva del Garda, Revo, insomma. Miei posti. In Trentino, comunque. In Trentino non si cambia per me. Me lo consiglio, ragazzi. Esatto, venite in Trentino. Venite in Trentino. A mangiare le mele. Anche quelle. Cara Letizia, ci abbiamo messo un attimo, hai visto? Cioè, era una roba proprio sciolta, è venuta fuori quasi meglio, ma anzi meglio che quella che abbiamo fatto con Os, quindi veramente sì sì, ancora più. Ti abbiamo abbattuto quasi. Io me la legherò il dito questa, eh. No, scherzo. Comunque è stato veramente piacevole, Letizia, spero che ti sia divertita in questi pochi minuti che hai passato con noi. Ovviamente domani devi correre, quindi adesso ti lasciamo andare a riposare, a fare le tue cose, i massaggi, quello che devi fare. Tutto. Noi ti ringraziamo, poi ovviamente non potremmo mettere tutte le miliardi di domande che ti hanno fatto, abbiamo selezionato alcune, quindi spero non si offenderà nessuno, però abbiamo risposto a tante domande. Massimo, contattatemi. Esatto, scrivete comunque su Instagram, nei direct, che se avete delle curiosità, Letizia risponde. Assolutamente. Letizia risponde. Grazie Alan per questa bellissima interview. Prego, grazie mille. Andiamo avanti con la puntata. Direttamente dal Giro delle Miglia, Race News. Il Giro delle Miglia donne ha visto vincitrice l'olandese Vollering davanti alla nostra Longo Borghini, alla Nascova. Forse non riuscite a sentirmi bene perché c'è lo speaker che sta parlando molto forte. Mentre tra gli uomini, corsa combattutissima tra i big, ad avere la meglio, è Primoz Roglic, che va a vincere davanti a Vuz e Ighita. Quarto Mollema, quinto Valverde, sesto il nostro Diego Ulissi. Corsa bellissima e super combattuta. Nel Gran Primo Beghelli, donne elite, vittoria in volata della campionessa italiana in carica Marta Bastianelli, che è andata a vincere davanti a Lorena Vibes e a Chiara Consonni. Nel Gran Primo Beghelli a Monteveglio, grandissima vittoria di Sonny Colbrelli, che con un attacco nel finale con altri sei uomini, scortato dal compagnolo di squadra Cortina, è andato a vincere davanti a un certo Alejandro Valverde e a Jack Aig. Terza vittoria stagionale per l'Azzurro. Flash News. Se ne è andato Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria e presidente del Sassuolo Calcio, squadra che ha portato dalla Serie C2 alla Serie A in pochissimi anni. Squinzi, patrona del grande marchio Mappei, ha investito molto nel ciclismo e per dieci anni ha messo in piedi una squadra davvero formidabile, soprattutto nelle grandi classiche. Ci lascia quindi un grandissimo personaggio di ciclismo, anche se negli ultimi anni si occupava solo di calcio, è una persona che ha dato tantissimo al nostro sport, quindi da parte di tutta GCN Italia, condoglianze alla famiglia. GCN Italia Tech. Allora, Giorgione, il caro Giorgione Brambilla che se la sta spassando alla grande in viaggio di nozze tra un tuffo a bomba e un aperitivo, un drink, mi sembra giusto, magari non so se siete d'accordo, farlo lavorare un pochino. Quindi oggi leggerà un paio di vostri commenti, di vostre domande e risponderà bello spaparanzato in spiaggia magari, non so, dai Giorgione, lavoriamo un po', dai, dai. Grazie Alan, rispondo a due domande, partiamo con Carlo Cibin. Giorgio risponde, ho provato in allenamento a usare gel e barrette, ma ogni volta mi sono dovuto fermare per dare di stomaco. Consigli? Ma Carlo, è una cosa abbastanza strana, anche perché le barrette gel nascono proprio per creare meno problemi possibili durante le gare agli allenamenti, in modo da essere ben digeribili e ben tollerabili. Io ti consiglio magari di ridurre le quantità che assumi, se vedi che la situazione non migliora, cambia marca, cambia brand, continua a cambiare fino a quando trovi un prodotto che ti soddisfa, non ti dà problemi allo stomaco, perché sono abbastanza singolari come situazioni. Oppure poi c'è anche un'alimentazione fatta non da integratore, come ci chiede Fabio Smagnotto, Giorgio risponde, come ci si può alimentare per allenamenti lunghi, dalle tre ore in su, con cibo vero, tra virgolette, e non integratori, che non neghiamolo, hanno un costo spesso elevato. Allora Fabio, puoi usare dei paninetti al latte, molto piccoli, se riesci a prenderli più piccoli possibili, in modo da mangiarli in un unico morso, sarebbe l'ideale, o limite in due morsi. Puoi riempirli o con delle proteine, quindi bresaula, prosciutto cotto sgrassato, anche Philadelphia, oppure con altre carboidrate ad assimilazione differenziata, come ad esempio dalla marmellata, in confettura, non in gelatina, o del miele, che hanno un'assimilazione un pochino più veloce, quindi insieme al pane del paninetto danno un'energia in tempo un pochino più prolungato. Puoi anche optare per la frutta disidratata, che è ottima, tante calorie, in poco spazio, mango, papaya, anasi disidratata, anche i fichi secchi, forniscono molta energia e se ben tollerati, devi fare delle prove ovviamente, possono essere sostitutivi degli integratori. Grazie Giorgione per le risposte, sarei proprio curioso di vedere come hai reintegrato in questi giorni di luna di miele, vorrei sapere gli integratori che hai utilizzato. Guarda Giorgione, torni a casa messo bene perché ti giuro che me ne vado, io ti lascio da solo, divorzio, divorzio dal mio collega Giorgione, guarda, lo faccio. I tuoi commenti, anche se abbiamo letto una valanga di commenti, domande, teniamo aperta la nostra rubrichina, i tuoi commenti. Allora, salva, Gisian risponde, al Mondiale ciascuno rappresenta la propria nazione, ma l'abbigliamento tecnico e la bici richiamano le squadre di appartenenza, giusto? Come funziona? Allora, in teoria la nazionale ha un marchio che i corridori devono vestire, se la maglia azzurra è, facciamo un esempio, sportful, tutti dovrebbero vestire sportful. Poi abbiamo visto all'ultimo mondiale, in condizioni estreme di pioggia incessante per tutto il giorno, alcuni corridori hanno usato le mantelline che usano con le proprie squadre, in teoria non si potrebbe, però in quelle condizioni estreme, penso che abbiano tutti chiuso un occhio, un occhio e mezzo, quindi, cioè, comunque, in sostanza, ogni nazionale ha il suo marchio tecnico che i corridori devono vestire. Poi, ovviamente, i calzoncini sono con la scritta del team, però il calzoncino è del marchio, insomma, che segue la nazionale. Daniele Centenaro, per Alan Ekoff, lo avresti squalificato in gara? Parla dell'olandese che nel mondiale Ander 23 aveva vinto e poi è stato squalificato per aver fatto scia prolungata. Così da non falsare parzialmente il mondiale? Sì, in questo caso, caro Daniele, sì, l'avrei squalificato. Se il regolamento è chiaro, non puoi fare scia prolungata in quel modo, bisogna squalificarlo subito all'atleta, non puoi fargli fare ancora tre ore di gara e puoi squalificarlo dopo, secondo me. Quindi, io spero che in futuro migliorino un pochino i regolamenti e lavarsi e utilizzi proprio direttamente in corsa. Alberto Pireddu, allora risponde, Giorgio risponde, potete parlare del doping e il ciclismo in modo dettagliato, doping o anti-doping? Mi piace molto un episodio sul doping, cioè, Alberto vuole il doping, perché parlano sul doping, grandi continuate così. Guarda, io doping non ne posso parlare poco perché non ne ho mai praticato, però degli anti-doping possiamo dire qualcosa di più, magari qualcosa di più dettagliato sicuramente. Riccardo Lucarini, Alan risponde, allora, Alan risponde, Alan, nel prossimo show riuscite a dire qualcosa in più sul caso Rohan Dennis? Allora, Rohan Dennis aveva quello che, i rumors, le voci che sono trapelate, aveva già deciso il contratto con Bahrain, col Bahrain prima del mondiale, però l'ufficialità è venuta fuori dopo, quindi per questo motivo lui ha corso con la BNC, non ha corso con la Merida e quindi questo un po' spiega questo grande mistero. Rohan Dennis ha un carattere molto particolare, molto difficile da gestire, ha litigato spesso delle squadre inquestato e poi non entriamo nel merito anche perché non conosciamo veramente in maniera capillare profonda la situazione. Andiamo invece adesso a leggere un commento, un messaggio che c'è stato inviato nella nostra posta di Facebook su Messenger e allora è questo signore Costanzo Garlini che scrive, attenzione, cara Gizia in Italia, nelle persone di Alan e Giorgio, sono un emigrato di 73 anni vivente in Bolivia nella città di Cochabamba a metri 2750, però lì si fa il tour a suo serio, come lo Stelvio infatti. Sono appassionato di ciclismo fin da quando avevo 3 anni. Sono iscritto ai vostri canali e non mi perdo un video di nessuno di voi due. La passione per la bici me la trasmise mio fratello che vive in Italia a Bergamo e ha 87 anni compiuti. Il prossimo anno ci incontreremo a Bergamo, se Dio vorrà. È proprio il caso di dirlo. In previsione di ciò mi ha proposto di percorrere per l'ultima volta lo Stelvio. Però, però da Bormio, poiché dice a 87 anni è meno duro. In effetti sì, è un pochino più dolce. Spero di stargli dietro. È una storia che spero trovate interessante. Ve l'avrei scritto nei messaggi di YouTube in diretta, ma visto i fusi orari, qui 6 ore indietro per me è difficile. Anch'io esco in mountain bike 3 volte a settimana per un'ora e mezza volta. A questa altezza è la mia età, è una bella fatica. Grazie per leggermi, ciao a tutti. Caro Costanzo, grazie per averci mandato questo messaggio. Tra l'altro io ho interagito anche con Costanzo e ci ha ringraziato tantissimo perché dice che grazie ai nostri video si sente parte di questa community che veramente parte dai ragazzini di 10 anni, dai bimbi di 10 anni, fino a persone anche di quasi 90 anni. Questo per noi è un motivo di grande orgoglio. Spero il prossimo anno, Costanzo, se tu avrai voglia di contattarci, di poter percorrere lo Stelvio con te e tuo fratello, perché tuo fratello ha 87 anni. Ragazzi, il Stelvio da Bormio sarà anche più leggero, ma comunque sono 24 chilometri di salita vera. Quindi sarebbe veramente una cosa interessante. Magari che faccio una puntata, chissà, sullo sfidare lo Stelvio alla soglia dei 90 anni. Veramente fantastico. Grazie Costanzo. Se avete voglia di condividere con noi qualche storia interessante, qualche storia particolare, potete farlo ovviamente su YouTube, ma anche nella nostra posta di Facebook, quindi su Messenger, oppure nei direct di Sian Italia. Non scrivete in privato a me, Giorgio, che abbiamo già una valanga di messaggi con la quale rispondere, quindi scrivete alle nostre pagine social. Mi raccomando, continuate a scrivere. Caption Challenge! La sfida spazio-temporalesca delle didascalie. Ci hanno segnalato borracce che hanno terminato il loro viaggio spazio-temporale in posti sbagliati, borracce che sono infiniti in testa alla gente, per fortuna sono vuote, quindi può capitare. Se vi capita, segnalatelo e cercheremo di aggiustare questo sistema di viaggio spazio-temporale. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo col vincitore di questa settimana. La foto era quella del tizio dentro la possangherona d'acqua che faceva così, zitti. Allora, vincere è Wilson Sina. Alan, Ehi, Giorgione, non sei più in Africa a fare i tuffi in piscina? Ti devi rimettere in forma, Giorgione. Zitto. Caro mio, Wilson, hanno deciso che tu sei il vincitore. Mi casca la borraccia, guarda. Devi ancora iniziare il viaggio spazio-temporale. Vai con il viaggio. Speriamo che arrivi proprio a questo Wilson. Speriamo, dicelo, facci sapere se è arrivata la borraccia. Andiamo invece con una foto un po' particolare. Qui è una foto datata, sarà meno di dieci anni fa. Questa foto qui, non so come l'hanno pescata, ma c'è questo corridore, questo ciclista della Quick Step che ha rubato il falcetto della morte a un tizio vestito da morte, penso, e sta inseguendo, minacciando un tizio vestito da vescovo. Cioè, la cosa, una delle foto più assurde che siano mai capitate nella Caption Challenge. Ragazzi, io non mi vengono le parole per descrivere tutta questa follia inscenata, tutta in una foto. Ormai voi siete professionisti laureati di Caption Challenge, quindi via con la sfida! Siamo arrivati alla conclusione anche di questo 41esimo GCN Italia Show. Ringraziamo Living Place Hotel di Bologna che ci ha dato la possibilità di registrare qui lo show. Ringraziamo Letizia Paternoster per la disponibilità che ci ha dato. La settimana prossima tornerà Giorgione Brambilla, quindi basta tuffi a bomba, basta cocktail, basta maniare. Cioè, Giorgio torna a lavorare che abbiamo bisogno di lui. Quindi, la prossima settimana sarà anche Giorgione. Ricordo, come tutte le volte, di andare nel nostro shop online, il nostro negozio online, se ci sono tante cose che possono interessarvi. E, come sempre, continuate a commentare, continuate a scriverci. se volete in futuro vedere un personaggio ospite dello show, scriveteci il nome di chi vorreste vedere. E non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!